E ben ritrovati amici cripto investitori e buonasera a tutti quanti. Oggi ho girato il nostro saluto introduttivo. Allora, come avrete notato abbiamo rimesso la vecchia sigla perché qualcuno di voi mi ha fatto notare che portava bene e io non smetto mai di sperarci. Allora ho detto, sa, riportiamo il balletto di Vitalik che vuoi vedere che ritorniamo bullish. Poi visto che tra oggi e ieri si è fatta vedere un po' di domanda ho detto, vabbè, cavalchiamo questa ondata di hype. Ovviamente non voglio illudere nessuno perché se è vero che c'è un po', proprio un po' di domanda è anche vero che non è assolutamente cambiata la situazione. C'è una nuova possibilità di bottom? Ma vediamo perché ogni qualvolta andiamo a spazzare un po' di liquidità dai minimi. Lo stesso poi vale anche per i massimi, però l'abbiamo fatto ieri dai minimi. Abbiamo fatto il cosiddetto sweep, abbiamo visto un meno 6%, se non ricordo male, nella candela giornaliera di ieri che poi è stato immediatamente riassorbito. Quella è una bella reazione da parte della domanda perché mostra comunque che c'è ancora, che è lì, che non lascia proprio con tutta sta facilità perdere dei livelli chiave. Una delle cose che avevamo notato, che avevamo puntualizzato negli scorsi giorni era come ogni volta che andavamo ad attaccare questa nostra area, vedete, questo rettangolone verde che è l'area di domanda principale, il supporto principale che ci tiene in piedi purtroppo ogni volta c'era meno forza da parte della domanda. Cioè, prima volta, guardate, shadow molto lunghe, rimbalzo immediato. Seconda volta, di nuovo, rimbalzo. Terza volta siamo andati un pelo più in profondità, siamo arrivati fin qui, però rimbalzo, pam, dritti dritti verso il range high. Poi c'è stata questa cosa non bellissima, questa reazione non bellissima con il range high, vedete, un falso breakout, un tentativo di andare oltre, cioè la domanda ha detto, sa, proviamo a spingerci un po' oltre, e l'offerta gli fa, scordatelo, bam, subito riassorbita in basso, diretta di nuovo nel nostro pool di domanda, che proprio ieri, per ritornare al discorso iniziale, è andato a fare lo sweep della liquidità sotto gli ultimi minimi locali, cioè questa shadow e quest'altra shadow, con una buona reazione. Siamo andati anche ad attaccare 29.800, che è questo livello di supporto che storicamente ha la sua rilevanza, no, mi ricordavo sul settimanale, ma non è vero, sul giornaliero. Come potete vedere, qua, tornando proprio alla fase rialzista, quindi a gennaio, all'inizio di quest'anno, nel pieno della Burran, avevamo fatto un attimino di storno, un attimino di pausa, e era appunto gennaio. Eravamo arrivati a 40.000 e abbiamo iniziato a stornare, siamo arrivati fino a 30.000, e abbiamo creato un supporto, proprio qua, in zona 30, che di fatto è quello che attualmente ci sta tenendo in piedi il movimento. E proprio per questo io l'ho protratto fin qui, e al momento è un po' il limite inferiore, se vogliamo, delle zone di chiusura, attenzione, non sto parlando dei pool di domande offerta, ma delle zone di chiusura, sotto alla quale si può considerare sempre quest'area, questa gigantesca area, che è il riferimento appunto attuale di prezzo, persa, e quindi andare verso il supporto sottostante. Bisogna vederlo sempre come a fasi il movimento. Abbiamo delle fasi costruite all'interno di alcuni range di prezzo, costruite all'interno di alcune strutture, una volta che una struttura viene violata, si passa alla successiva, e ovviamente si opera di conseguenza. Bene, adesso ho già sporcato a dovere il grafico, questo era solo per fare una breve introduzione, anche se ho visto che l'ultima live, dove abbiamo parlato un po' di grafici, di cose, di notizie, tutto un po' mischiato, vi è piaciuto, quindi magari potremmo tenere anche questa come impostazione. In ogni caso, al momento, siamo sempre all'interno del nostro famigerato range, e ve lo chiedo anche a voi a sto punto, ma secondo voi, c'è possibilità che quest'area, 30.000 dintorni, faccia da bottom? O altrimenti, dove ve l'aspettate il bottom? Io non voglio fare il sondaggio, ma ve lo voglio chiedere, quindi utilizzate pure la chat per dire la vostra, condividete, e poi vi leggo, e commentiamo insieme tutto quanto. Adesso io parto con un paio di notizie, un paio di cose, poi vi ricordo che oggi ci sono i promo code, quindi oggi è la giornata dei promo code, come al solito per PrimeXBT, da 0,005, giusto? Bitcoin l'uno, ve ne droppo due così, quindi state sul pezzo, perché sono tradabili, potete usarli per aprire anche una posizione 100 per a caso, e se vi va bene, poi prelevare i profitti. Ci sono modi migliori di usarlo? Probabilmente sì, però non si sa mai, ognuno è libero di fare come meglio crede. A proposito di Intraday, oggi vi ho condiviso anche un altro trade, che mi è giusto stato triggerato un'ora fa, adesso vediamo, puntualmente mi andrà in stop loss, ma scherzi a parte, sto provando sull'Intraday una nuova strategia, cioè nuova, relativamente, ho scoperto l'acqua calda, l'obiettivo è mettere degli stop molto stretti, come vedete, e puntare su un setup estremamente vantaggioso, dal punto di vista di rischio rendimento. Lo sweep della liquidità, che ormai ve ne parlo in tutte le salse, è uno dei setup, lato rischio rendimento, più vantaggiosi. L'unico contro di un setup del genere è proprio lo stop stretto, quindi c'è un elevatissimo rischio di scatto dello stop. Questo è il downside di fare un trade del genere. Però il lato positivo è che, avendo più o meno 7, come rapporto rischio rendimento, perché ho messo il take profit, in zona resistenza, qua lo stop loss, poco più in basso, prevenendo comunque il tocco di queste aree di liquidità. Quindi vedete, un pelino più in basso l'ho messo, senza metterlo troppo largo, perché altrimenti si vanifica completamente il setup. L'idea era proprio, bene, qui c'è il bacino di liquidità, anche qui, perché c'è un po' di vuoto. Quindi io vado a puntare sulla pesca, pam, di quella liquidità lì, e l'imminente rimbalzo. Se fa il rimbalzo e poi riparte, il setup è verificato. Se magari adesso ha rimbalzato, poi sta lì e poi torna giù, vado in stop loss. Questi sono i due scenari del trade. Come vedete, ne approfitto anche per ricordarlo, quando si fa un trade è importante pianificare da un lato l'esito positivo e dall'altro l'esito negativo, perché se non avessi lo stop loss, non avrebbe nessun senso tutta l'impostazione di questo trade. Quindi è importante capire il dimensionamento, perché poi, piazzato lo stop loss e il take profit, con il giusto risk management, andando a posizionarsi con un size studiato, per limitare ovviamente le perdite, basta un trade che va bene di questo tipo, su 8, e comunque sia in break even, proprio perché il rischio rendimento è 7. Quindi andare a cercare tante situazioni di questo tipo, con gli sweep, con stop loss stretto e rischio rendimento elevato, e vedere un po' come va. Sarà l'oggetto dello studio nell'intraday delle prossime posizioni, che come sempre vi condivido, sia su Telegram, che sul trading journal, che poi potete sempre, a cui potete accedere, tramite Drive, è un Google Sheet, dove poi annoto tutto quanto, se va bene, se non va bene, cosa c'è da modificare, e così via. Benissimo, qua niente, è il mio trade aperto su PrimeXBT, quindi non vi sto ad aggiungere altro. Ecco, adesso veniamo ad alcune cose interessanti. La prima, una nuova aggiunta da parte di Binance, ha aggiunto un perpetual sulla Bitcoin Dominance, è una novità questo. Se da un lato è vero che, ad esempio, su FTX e non solo, ci sono i perpetual e i future, anche sulle altcoin, che di fatto è molto simile come strumento, sulla Bitcoin Dominance non c'è mai stato. Allora, non è la classica Bitcoin Dominance, che va da 0 a 100 in percentuale, ma è un indice, che parte da un valore di 1000, è partito pochi giorni fa, aspettate che lo andiamo anche a vedere, così ve lo mostro in diretta, derivati, ci siamo, sì, USDM, andiamoli a prendere, allora, BTC DOM si chiama, BTC DOM, eccolo qua. Allora, come vedete, mi ha rimesso BTC, no, è giusto, BTC DOM USDT, però qui mi ha graficato BTC USDT, niente, è impazzito Binance, ok, ci siamo, allora, vedete, ha tre giorni di vita, freschissimo come strumento, partiva da 1000, e poi varia il suo valore, in base a cosa? In base ovviamente alla Dominance, in particolare va a pesare le prime 20 altcoin, per capitalizzazione, pesandole, cioè le più capitalizzate, pesano di più sull'indice, e poi di fatto quel 1000 si sposta in alto e in basso, in percentuale, in base al prodotto dello spostamento del prezzo di ognuna delle altcoin nel paniere dell'indice, moltiplicata per il suo peso. Ovviamente Ethereum è quella che pesa di più, il che vuol dire che se Ethereum fa un movimento importante, l'indice varierà di conseguenza. Se Ethereum pompa, per dire, la Bitcoin Dominance dovrebbe scendere, e quindi io mi aspetto che il BTC Dominance Index dovrebbe diminuire. Questo è un po' il discorso. È interessante, vabbè, a parte tutti questi pipozzi matematici che fanno vedere tutte le formule, ultima cosa, i pesi si ribilanciano ogni settimana, perché giustamente se la capitalizzazione delle alt cambia, se la top 20 delle alt cambia, l'indice si adegua, evitando quindi delle anomalie poi nello strumento stesso, dei pump e dump repentini e cose simili. Questo per dire che è uno strumento, serve, non serve, non lo so, dipende da voi, potrebbe essere interessante come hedging, magari, per chi ha posizioni in altcoin, magari si vuole coprire sull'intero mercato altcoin, ve l'ho detto, è un'operatività che non differisce tantissimo rispetto all'operare sull'indice delle alt, però ha qualche peculiarità in più, per chi proprio vuole un'operatività molto tecnica, con coperture specifiche, ecco, si può andare a fare delle triangolazioni interessanti. attenzione che, essendo un perpetual, c'è il funding, quindi fate molta attenzione, che ogni otto ore, ad esempio adesso è bello esoso, c'è un funding non indifferente, quindi, mi raccomando, non è per posizioni su un lungo periodo. Poi, rendita passiva su stablecoin, ho visto su Coinlist, che c'è la possibilità di ottenere una rendita del 20% circa, su USD, che è la stablecoin di Terra, ok, è il TerraUSD, si chiama proprio, il mondo Terra, Luna, Anchor, Mirror, tutto quel mondo lì, in tanti mi avete chiesto, ma facciamoci un approfondimento, eccetera, eccetera, io lo farò, lo sto preparando, è abbastanza complicato, voglio semplificarlo, quindi non voglio fare appunto pipozzi tecnici, ma voglio cercare di fare quei classici 20 minuti di spiegazione, un po' alla portata di tutti, ma a me piace molto come ecosistema, la blockchain, Terra, Luna e quant'altro, USD, adesso per farvela breve, è un altcoin, è un altcoin, una stablecoin, collateralizzata da Luna, 1 USD è collateralizzato da 1 dollaro di Luna, c'è una, il peg è mantenuto tramite una specie di signoraggio, cioè quando perde il peg c'è l'incentivo con l'arbitraggio, ovviamente, cioè scende USD, c'è l'incentivo a comprarlo a mercato, per poi andarlo a trasformare e vendere per un dollaro, e quindi riportare il valore a un dollaro stesso, ma non solo, perché se fosse solo questo uno dice, vabbè è come iron, quindi c'è il rischio che in una situazione di turbolenza perde il peg, e c'è il bank run, quella spirale dove poi si arriva a perdere definitivamente il peg. In realtà ci sono alcuni accorgimenti in più, che adesso non vi spiego perché sono molto tecnici, ma in sostanza variano le fee di redeem e mining, quindi di creazione e distruzione di USD, variano varie cose, vari altri parametri di secondo e terzo ordine, proprio al fine di mantenere il peg. Inoltre, pensate che la USD ha una capitalizzazione al momento di 2 miliardi circa, aspettate, che ve lo dico subito, mi ricordavo che era più o meno 2 miliardi, quindi si tratta comunque di una stable coin molto capitalizzata, 1 miliardo e 9 esatto, e che ha già subito parecchi stress test, perché era successo proprio a fine maggio, mi ricordo che su Twitter era già partito l'allarme, sul bank run su USD, e in realtà poi si è salvata, ha recuperato il peg, proprio perché c'era Luna che ha dampato parecchio, e c'era un po' questo timore, però ha funzionato, vedete c'è stato un picco di volumi, il che significa che l'arbitraggio ha funzionato, che i sottostanti, le regole sottostanti che lo mantengono pegato, hanno funzionato. Questo per dire che il rischio non è comparabile con quello di Titan, Iron e simili, anche il rendimento chiaramente, è un rischio non pari a USDC per capirci, più alto, però neanche altissimo, c'è un rischio medio basso, a mio personale parere, come sempre non sono consigli finanziari, fate le vostre ricerche, però il rischio de peg lo reputo minore, e è la stessa cosa che andarlo a mettere su Anchor Protocol, perché Anchor Protocol, che è l'applicazione DeFi, direttamente sulla blockchain di Terra, vedete, ha l'obiettivo di dare un APY più o meno fisso, ne avevamo parlato, mi pare, quando nel penultimo, terzo ultimo video sulla DeFi, e sostanzialmente quello che differenzia Anchor Protocol dalle altre DeFi, è tenere un interesse stabile, più o meno stabile, che non cambi giorno dopo giorno, perché se andate a guardare le DeFi classiche, un giorno è 10%, il giorno dopo 25%, poi 4%, poi 30%, non si capisce più niente, mentre qua l'obiettivo è tenerlo stabile, e non lo so, lo approfondiremo, io adesso vi volevo solo dire che c'è questa possibilità, so che è un periodo magari poco stimolante dal punto di vista del mercato, perché siamo in una fase tendenzialmente bearish, e quindi c'è un po' la ricerca di rendite alternative, esiste questa possibilità, tramite CoinList, che è un exchange regolamentato e tutto quanto, super easy, perché lì basta depositare e guadagnare, oppure tramite Anchor Protocol, poi c'è neanche un altro rischio più alto, attenzione qua, iniziamo ad arrivare a un livello di rischio un pelo più alto, che si chiama QI DAO, io ve la cito anche questa, ho deciso che comunque io ve le mostro queste cose qui, poi mi raccomando, fatele buon uso, e come funziona? È MakerDAO su Matic, sostanzialmente, e ha la sua stable coin, che si chiama Mima, Mimatic, è lei, Mimatic, e allora, questa non ha un peg perfettissimo, come potete vedere, perché ogni tanto, adesso non so se è corretto qua il grafico, però, io avevo visto che più volte aveva perso il peg, per poi recuperarlo, Mimatic, aspettate che lo andiamo a recuperare, e però anche qua c'è un discorso, cioè non è una collateralizzazione basata sulla volatilità, è simile a MakerDAO come strumento, e quindi dovrebbe, dico dovrebbe, se si comporta come previsto, mantenere sul lungo periodo il peg, è un po' come guardare DAI nelle sue fasi iniziali, e come vedete è tutt'altro che regolare, però io ve la butto lì, perché ci sono dei Volt, sempre da tenere ovviamente come medio-alto rischio, che hanno un APR del 30%, vabbè non è neanche spaziale, Mimatic, USDC, e 109 milioni di TVL, e 30% di APR, rischio medio-alto, ripeto, rendimento neanche stellare, quindi forse non ne vale neanche la pena, però io vi condivido la sua esistenza, giusto per curiosità, ecco, c'è, sappiate che c'è, e basta, poi, 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 basta, in realtà ho finito, non ho altro da dire, perché di notizie particolari, cose da condividere, dunque, fatemi controllare, ma non c'è nient'altro di particolare, c'è un fondo che ha ricevuto, un fondo di investimento in crypto e blockchain, che ha ricevuto 300 milioni da Visa e PayPal, però, vabbè, sono notizie che non fanno neanche tanto notizie ormai, non lo so, non c'è neanche quasi da stupirci, quindi, io passerei, cosa ne dite la parola a voi, quasi quasi, andiamo a vedere un po' di vostre domande, e che cosa volete sapere, e che cosa, che dubbi avete, oggi si è creato un accumulo, super trappole, occhio, dici che questa è una bear trap, no, una che trappola, perché in realtà potrebbe essere stata una trappola per gli short, questa, questo dump di ieri, cioè, qua ci si sono intrappolati in tanti, secondo me, e io mi aspettavo, magari, la possibilità di squizzarli, fino a ritornare al range middle, o addirittura anche al range high, ed era quello su cui ho basato la posizione intraday, no? Infatti, vediamo, io seguo, non ho intenzione di chiuderla in anticipo, a meno che non ci siano proprio degli scenari, che fanno capire che non c'è forza, cioè, se adesso andiamo ancora a provare a salire, e veniamo nuovamente respinti, cose del genere, insomma, si vede che non c'è forza, però, anch'io mi aspettavo un discorso di intrappolamento degli short, qua sotto, e, possibile squeeze, quindi, fino a targettizzare, fino a puntare, al range middle, o al range high, stiamo a vedere, sono curioso, poi, ciao Luca, come va? Ti seguo da mesi su YouTube, guardo sempre le repliche, questa è la mia prima live, benvenuto allora, avrei una domanda, sto per allocare una piccola parte del portafoglio, per fare un po' di operazioni di trading, buona idea, ci può stare, sto cercando un modo per reinvestire il profitto, in bitcoin, come collaterale, per tirare fuori della liquidità, in stable coin, consigli eventuali piattaforme, per fare lo own, grazie mille, buona serata, to the moon, allora, reinvestire il profitto, come collaterale, cioè, tu vuoi depositare, e prendere in prestito stable coin, ma guarda, ci sono, le, potresti addirittura utilizzare Aave, per fare un lavoro del genere, Aave su Polygon, tra l'altro, adesso, paga un po' meno, perché, c'era il liquidity mining, anche per prendere i prestiti, però, da pochi giorni, si sono dimezzate le reward, e, come vedi, cioè, tu paghi, un po' di APY, per prendere in prestito la liquidità, per dire, tu depositi bitcoin, WBTC, e, vabbè, ti danno una miseria, questo è quello che passa in convento, durante i bear market, prendi in prestito USDT, per dire, tu paghi il 3,56 annuo, però, ti paga il 3% in Matic, quindi, alla fine, vedi che non paghi neanche tanto, quindi, io, forse, utilizzerei Aave, per fare una collateralizzazione, di questo tipo, credo che sia, la piattaforma migliore, poi, a proposito, mi è venuta in mente una cosa, sul video che ho fatto ieri, sul come comportarsi durante i bear market, ovviamente, la rendita, no, sulle stable, è protagonista, perché, di fatto, insomma, si va a cercare, una situazione di maggior tranquillità, maggior stabilità, e, uno di voi, mi ha fatto una, ha fatto un'osservazione molto intelligente, secondo me, ha detto, io, ho intenzione di fare una cosa di questo tipo, metto a rendita degli USDC, delle stable coin, per ottenere 50 euro al mese, era una somma, adesso non ricordo quanto, e quella rendita di 50 euro al mese, fatta tramite la piattaforma di Cefai, di turno, la utilizzo per fare un pack su bitcoin, secondo me è un'operatività geniale, perché, si ha un pool di stable coin, che rimane lì, ed è investito, quindi fa genera rendita, e quella rendita viene investita in bitcoin, per fare una sorta di pack, operatività geniale, assolutamente, poi, 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 bottom a 20k, pivò a 20k, 25k, per me arriva i 20k, io ho dei buy a 24, tutti comunque tra i 20 e i 25, mi aspetto un candelozzo rosso fino a 24, dunque, andiamo a vedere un attimino, cosa c'è in quella zona, e effettivamente, proprio tra i 22 e i 24, c'è un altro bel supporto, e poi abbiamo i 20, che è il precedente o il time high, vi ricordate? Dite che potremmo arrivare anche fin lì, non lo so, comunque, sicuramente la zona più puntata, più osservata come bottom, è quella che va dai 20 ai 24, quantomeno da voi, e anche sul web, leggo che il sentiment è molto così, ma quindi a me viene quasi da chiedermi, quasi come provocazione, ma non è che il mercato, comunque sapendo, che tutti guardano quei livelli lì, si comporterà in modo da fregare quanta più gente possibile, lasciare a bocca asciuta, quindi, o rimbalzando più in alto, o ritracciando di più addirittura, non lo so, a me viene sempre da pensare a quello, quando vedo che c'è un po' di consenso intorno a certe cifre, a certi livelli, mi viene da pensare che poi il mercato ci stupirà un'altra volta, maledetto. Ciao Luke, pensi che sia un buon momento per entrare sulle alt, o è preferibile attendere che il mercato si ristabilizzi un attimo, personalmente io adesso dalle alt ci sto ancora lontano, perché abbiamo visto sulla Bitcoin Dominance, aspetta che te la vado a prendere, eccola qua, guarda, un bottom, un possibile bottom, che adesso c'è stato il break, vediamo se lo retesta, e se poi continua in questa direzione, potrebbe iniziare un inverno, un altcoin winter, l'esatto opposto dell'alt season, quindi Bitcoin Dominance in uptrend, altcoin Bitcoin in downtrend, e cosa peggiore, se la coppia altcoins, altcoins perché sono tutte le altcoin, Bitcoin va in downtrend, e Bitcoin stesso va in downtrend, quindi continua a contrarsi, è un disastro per le altcoin, vedi delle perdite atroci, quindi attenzione a pianificare con cautela le prossime mosse sulle alt, quindi è meglio attendere, secondo me è sempre una conferma in più, rispetto che cercare di anticipare il bottom, soprattutto sulle altcoin, perché un errore ti può costare caro, in un giorno ti fanno anche un meno 20%, se invece il discorso è sul cercare di strutturare, continuare a strutturare un investimento a lungo termine, allora si continua con la propria strategia, però le altcoin come sempre scottano, vanno sempre prese con cautela, spero che sia il bottom per poi fare il saltone a 100k, ma a naso sembra scendere, sai che bello se adesso questo era il bottom, domani riparte, papam ti fa un candellone verde così, sarebbe fantastico, ma non credo che succederà sinceramente, chi lo sa, vediamo. Poi, bottom 2326k, è sempre lì, sempre lì, triple bottom, dunque triple bottom in realtà, questo è un range, cioè ho letto qualcuno che diceva, ma è un wedge, è un expanding bottom, cioè si trovavano pattern di ogni tipo, ma sta di fatto che abbiamo un pool di domanda, e un pool di offerta, quindi facciamola semplice, vediamola per quella che è, fin tanto che rimaniamo all'interno di questa struttura, seguiamo la struttura stessa. Ciao Luca, ho visto il video del tuo portafoglio, volevo chiederti, ma il ribilanciamento lo fai un giorno prefissato, fregandotene del mercato, oppure ribilanci in base al mercato, per capirci, se sei in perdita, ribilancio, vedi come si muove il mercato, e poi non ho chiaro come consideri il pack nel portafoglio, guarda allora, per quanto riguarda il ribilanciamento, io di solito lo faccio all'inizio del mese, più o meno, fine mese, inizio mese successivo, e poi, se c'è un periodo di volatilità, aspetto che si esaurisca la volatilità, perché non voglio ribilanciare nel pieno di un pump o dump che sia, cioè, l'ideale sarebbe ribilanciare a ogni fase del mercato, ovviamente non possiamo predirle, e quindi io ogni mese tendenzialmente ribilancio, a patto che non ci sia una fase di movimento, bam, molto espansivo in corso, in tal caso aspetto che lateralizziamo, si contragano i volumi, anche perché altrimenti, mentre sei lì che ribilanci, ti trovi già delle cifre diverse, dici, oh no, avevo appena finito di ribilanciare, ma mi è già ricambiato tutto. Per quanto riguarda il pack, tu immaginati un flusso in entrata, di capitale, che viene poi distribuito nell'intero portafoglio, al momento io in realtà il pack lo sto concentrando su DPI, perché il resto l'ho messo un attimo in pausa, lato pack, proprio perché voglio alimentare DPI come investimento, e quindi mi concentro su quello, ma se fossi a regime, ingresso, flusso in ingresso, distribuzione sull'intero portafoglio, tutto lì. Poi, dunque, mi ha ripartito l'audio che mi fa eco, allora, 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 qualcuno sa come ho fatto a metterle, varie orizzontali a sinistra per vedere il volume degli ordini, me lo chiedete spesso, è l'indicatore, voglio un profile, intervallo visibile, questo, è il profilo di volume, questo è un indicatore di TradingView Pro, che fa vedere in sostanza quanto volume si è mosso nelle varie aree di prezzo, utile per andare a individuare eventuali aree di accumulazione o distribuzione, a seconda poi dell'andamento e della direzionalità. C'è gratuito su gocharting.com, se non volete fare l'abbonamento pro di TradingView, su gocharting potete andare a cercare bitcoin dollaro, per dire, tac, e andare a mettere, qui dice che con Brave non ci va tanto d'accordo, tra gli indicatori, order flow, volume profile, come vedete, ci sono, qua ce l'avevo già di lato, e ce ne sono veramente tanti qua di indicatori, quindi io vi consiglio di buttarci un occhio, perché questo è totalmente gratuito. Niente, poi procediamo, procediamo. Tutti bearish in chat, ma che fine hanno fatto i bull glasses? Sono sempre qui, io non me ne libero mai dei bull glasses, poi ho scoperto che Plan B, il nostro super bull numero uno, li indossa anche mentre dorme, mentre fa la doccia, mentre si allena, quando esce la sera, ristorava sempre sui bull glasses, ragazzi, è la persona più bullish che abbia mai visto, il suo worst case scenario era vedere bitcoin a 140k a fine anno, alla faccia dello scenario peggiore, vorrei essere come te Plan B, io ogni volta che mi sento giù, apro il twitter di Plan B, e come niente, mi gaso, mi gaso subito, e basta. Poi, Luca, volevi investire su Curve, cosa ne pensi? Il token CRV, intendi? Curve, quello, a mettere liquidità su Curve, perché io il token CRV, io non sono un grande fan, in generale, dei token dumpabili, dei token farmati, cioè perché io, come tanti, e come molte piattaforme che lo fanno in automatico, vedi, Yorn Finance, faccio farm and dump, e quindi, quei token, no, che vengono dati, come ricompensa per chi farma, c'è questa pressione in vendita costante, che mi fa un po' passar la voglia. Poi, se andiamo a vedere il grafico, di CRV, non ce l'ho neanche più qua, CRV BTC, eccolo qua, allora, ma non è un granché, perché arriva dal downtrend iniziale, e poi si è andato a comprimere, qui si può cancellare anche tutto, si è andato un po' a comprimere, in questo andamento, che sembra un gigatriangolo, sul settimanale, quindi qua è proprio macroscopico, se lo dovesse rompere a rialzo, ti dico, superando i 7800 e giù di lì, tac, così, ci si potrebbe fare un pensiero, ma altrimenti, io ripeto, i fondamentali, di questi token farmabili, non mi convincono molto, mentre se tu intendi, di andare a usare CRV, come liquidity pool, assolutamente, voto 10, è uno dei miei preferiti, in assoluto, a basso rischio, scusate, e anche rendimento interessante, sulle coppie giuste, adesso hanno aggiunto anche, TriCrypto, che è quello con Bitcoin, Ethereum e il pool di stablecoin, quindi ci sono un po' anche quelle, e poi ci sono un sacco di pool di stablecoin, con buoni rendimenti, quindi sicuramente vale la pena, sono nuovo nel mondo, benvenuto al mondo, che ne pensi di Shiba Inu, un mio amico esperto investitore, dice che è una moneta fortissima, vabbè, ridiamoci su, no, è una shitcoin, senza valore, perché, non lo so, è un meme del meme, c'era Dogecoin, e poi è arrivata anche Shiba Inu, così, perché non c'erano abbastanza cani, quindi, non è assolutamente un investimento, è un gioco, è un gamble, Ciao Luca, avresti qualche consiglio su dove studiare la price action? Un saluto, PS dove hai chiuso testa di bronzo, testa di bronzo l'ho nascosto, è lì, non lo posso dire, è nelle segrete del castello, mentre per studiare la price action, guarda, io mi son formato online, quasi esclusivamente online, non ho letto tanti libri, anche perché i libri sul trading, sono molto, molto frammentati, quindi io davvero, c'è da perderci un po' di tempo, ma online si trova di tu, di tutto, qualsiasi cosa, e io cerco di trasmettervelo analisi dopo analisi, anche perché non è che c'è una teoria particolare, ecco, una delle cose che ti posso consigliare, guarda, su Twitter c'è questo profilo, che si chiama Cred, aspetta che ti condivido anche, tac, Cred, che ha creato una serie di documenti gratuiti, questi qua, guardate, che ha pinnato, con dentro di tutto, anche proprio sulla price action, e quindi io ve lo, guardate, ve lo condivido, perché ne vale veramente la pena, è materiale di alta qualità, e soprattutto gratuito, quindi, usatelo, perché ne vale la pena, ripeto, Poi, ciao Luca, ma Solana, secondo quando torneremo bullish, ha le carte in regola per poter mai arrivare a un cap? Mamma mia, un cap, mi sembra un po' tanto, eh, anche perché adesso è a 30 dollari, un cap, porco cane, eh, cioè, non lo so, io mi punterei a degli obiettivi un po' più sostenibili, una cosa positiva di Solana, è che tra le altcoin, è una di quelle che sta reggendo meglio il, quest'ultimo bear market, perché, guardate, il supporto a 74 mila, finora tiene botta, bam, bam, e bam, anche ieri, guardate, attacco con la domanda che ha assorbito, e si continua, qua sicuramente ci sono, c'erano i bid di Sam, c'erano i limit buy di Sam, che sono entrati, bene, poi, a proposito di Solana, c'era un'altra cosa, aspettate che ve li tracassi, i Solarian, che sono degli NFT, tipo, cioè, che si autogenerano, tipo quelli, che c'erano su Ethereum all'inizio, non mi ricordo il nome, ma secondo me è una cagata gigante, ve lo dico con estrema sincerità, cioè, ci sono 10 mila in totale, e sono generati algoritmicamente, in base ai dati della transazione, che viene fatta per crearli, costano 14 Sol, penso che non ne valga la pena, magari invecchierà malissimo, questa mia frase, ma io non l'ho acquistato, però vabbè, ve lo condivido così giusto per sfizio, mentre su Orca, avevo visto, ok, sono dei pool, sempre su Solana, dei pool di, di varie coin, dove si può andare a dare liquidità, dove è, dove è, dove è, avevo visto un pool, eccolo qua, forse qua, USDC, USDT, con il 36% di APY, però, non credo che durerà, vi condivido anche questo, così giusto per sfizio, però, non credo che durerà, anche perché, questo USDC, USDT, quest'altro, allo 0,15, mentre questo, che ha una curva diversa, di swap, ha il 36%, vabbè, poi, 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 aspettate che, torno da voi, eccoci, la vedo come una bella trappola, l'andamento di oggi, ma trappola, bull trap o bear trap, intendete, perché, questa, se vista nel complesso, sembra di più una bear trap, a meno che, ovviamente, adesso, non andiamo a chiudere, qua sotto, sotto questo low, e andiamo poi, a fare, un'altra leg down, in piena regola, però, la candela di ieri, sembra aver intrappolato, più short che long, vedremo, vedremo, fino a ieri, avrei detto 23.500, oggi, inizio a pensare, se sia toccato, il minimo, a 28k, ma, vediamo, dobbiamo vedere, la reazione, e, soprattutto, se andiamo a uscire, da questo range, oppure no, è tutto da vedere, ciao Luke, vorrei cominciare, a fare un pack, su DPI, ma sono indeciso, se farlo su un iswap, o tramite bonifico, la scelta è tua, amico mio, dipende, da varie cose, e, non so quante sono, le commissioni, sul bonifico, attenzione, considera anche quello, su un iswap, adesso si sono rialzate, le gas fee, in questi giorni, poi, domanda semplice, veloce, voglio cominciare a investire, ho deciso di andare cauto, e cominciare a puntare, sulle Cefai, in stable coin, dove mi consigli, di scambiare i miei euro, in USDC, calcola che poi, devo spostarli, sull'EDN, Celsius, e BlockFi, ti direi, Binance o FTX, che sono quelli, che hanno le fee, le fee più basse, di trading, e FTX, forse costa anche meno, a prelevare, non so quanto, però, dovrebbe costare meno, di Binance, comunque, mi sembra, quei due lì, che siano i migliori, se qualcun altro, ha altri, suggerimenti, si faccia avanti, qualcuno dice, Kraken conviene, ma, mi pare, che abbia delle fee, un pelino, più alte, poi, 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 voi, che token interessanti, usate per avere rendite, in DeFi, io sono solo su Pancake, ma vorrei aggiungere, qualcosa su Polygon, io, in realtà, al momento, farei attenzione, alle rendite, sulle altcoin, sui token, perché le altcoin, sono volatili, e quindi, i token, vengono, in secondo posto, su Nexo non devi nemmeno muovere le cripto, ha un exchange interno, Kraken fa pagare solo 2 dollari e mezzo, per prelevare verso Cefai, ah, però mi pare che sul trading, ha un po' di fee, un po' più alte, vabbè, poi, 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 Harmony One, dobbiamo analizzarlo, vediamo, One, One BTC, è un po' che non lo guardo, in effetti, però, non benissimo, perché ha perso questo supporto, tac, a 200 satoshi, e adesso, ho paura che abbia davanti a sé, un po' di ribasso, un po' come tutte le altcoin, dai, diciamocelo, poi, 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 ho fatto un pack, dove ho 50% di bitcoin, 20 per 20 etere, ma il restante in DOT e Matic, un portafoglio medio rischio, solo cripto, ha senso quando si è in Burran, per limitare poi il rischio con i profitti, metterli in liquidità, come le stable coin, quando si ha un capitale più grande, ma guarda, mettere in liquidità le cripto, ha senso a prescindere, cioè, se tu ce le hai, cioè, farle fruttare, ha senso, attenzione a far bene i conti, perché, se tu comunque devi, allocare il, il capitale, in quelle, in quelle coin che hai già detto, allora, hai già l'esposizione di tuo, e non te ne devi preoccupare, ma c'è la in permanent loss in più, quindi, attenzione a quello, poi, poi, ciao Luca, io ho SLRS, mettendo in staking 150 FTT, per un controvalore di circa 4.000 dollari, se ti aggiudichi il ticket, indicativamente come quanto guadagni, dipende da che numeri fa la coin, perché, se non erro, hai un massimo di 250 dollari, per, di allocazione per ticket, dipende da quanto fa, cioè, se fa 10 per, sono 2.000 dollari, mi pare, se i numeri sono quelli, ok, questa è la bianjaletta, fai vedere anche gli andamenti short long, nel grafico, allora, gli andamenti short long, sono quelli su Bitfinex, però, Bit, dunque, vediamo, BTC, USD, shorts, vediamolo, sono, ecco, sono stati chiusi quasi tutti, gli short, mentre, BTC, USDT, longs, vediamoli, sono in crescita, non lo so, io credo che questo grafico lasci il tempo che trova, però, perché, attenzione, è solo una fotografia ristretta, delle posizioni long e short, su Bitfinex, in margin trading, tra l'altro, quindi, io credo che il grosso si muova sui derivati, quindi, dare più significato a questi grafici, di quello reale che hanno, rischia di essere un errore, anche perché, se guardate, i long sono più o meno stabili da sempre, no? Cioè, non è che ci sia tutta questa particolare, non lo so, un andamento dei pattern, da dire, ci sono delle correlazioni statistiche, ci sono dei dati interessanti, non credo, non credo. Poi, 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 ho l'in Shiba, bell'idea, bell'idea, mi sembra l'ideale, in una situazione così, come questa. Dunque, ciao Liu, puoi dare un'occhiata al grafico di PERP USDT? Allora, PERP, vediamolo, che tra l'altro, non mi dispiace, come coin, però, ha una tokenomics molto diluita, cioè, mi piace Perpetual Protocol, che è il, il protocollo di cui è Governance Token, che è in sostanza un protocollo dove si può fare trading di Perpetual su varie crypto, su un layer 2 di Ethereum, che dovrà, non mi ricordo se è XDAI o quale altro, e comunque, praticamente, ha zero fee in versione DeFi, quindi non è centralizzato, ha zero fee grazie proprio ai layer 2. Il token PERP viene dato parecchio come reward, anche, e c'è un po' di diluizione. Comunque, il grafico è brutto, purtroppo, perché abbiamo perso i 6 dollari, che erano il supporto, e adesso, sento un po' odore di retest, e vediamo poi in che direzione va, perché, se continua verso il basso, male, se lo recupera, potrebbe essere bene, potrebbe essere addirittura un setup long, con lo stop loss qui sotto, però, è sempre in secondo piano, rispetto all'andamento di Bitcoin, perché se poi Bitcoin ti fa un dump, lui se lo tira dietro, questo è poco, ma sicuro, questo è il problema attuale delle altcoin. Poi, provo a guardare su Sushi, c'è qualche pool interessante, qui riguardo alla domanda di prima sulle rendite, sì, su Sushi ci sono sempre dei pool interessanti, anche su QuickSwap, ma in realtà il mondo Matic adesso è quello che offre di meglio, Matic, sì, anche Curve, su Matic, e che altro, sì, sono quelli alla fine, i più interessanti. Poi, 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 potresti farci vedere come setti gli ordini operando in intraday, qualche esempio in live, ma guarda, semplicemente, io quando ho condiviso il setup, io ho messo l'ordine con entry, stop loss, take profit, come detto, e basta, considerate che le mie operatività in intraday sono un esperimento, non vi venga in mente di copiarle pari pari, perché io sono il primo che sta sperimentando, io non sono assolutamente abile nell'intraday, quindi andateci coi piedi di piombo. È il momento del promo code, oserei dire, perché altrimenti io qua mi dimentico, quindi ve lo vado a prendere, opla, eccolo, e ve lo condivido subitissimo. Allora, siamo pronti, siamo pronti, eccolo, godetevelo tutto, andatevelo a inserire in PrimeXBT, se non avete un account e volete partecipare a questi airdrop, ogni tanto, trovate ve lo scillo, sia su YouTube, nella descrizione, ve lo lascio sempre, e ogni tanto su Telegram, così, salta fuori, per magia. Poi, 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 dunque, 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 dunque. Ciao Luca, perché la Eco Chain è così sottovalutata? A mio parere è molto meglio di Polygon come potenziale. Un'altra domanda è sempre su MakiSwap, AMM primario sulla Wabi Chain, ha un TVL ridicolo in base al potenziale, il suo token è praticamente regalato, nonostante alcune IPY alte. MakiSwap, guarda, non lo conosco, non conosco il mondo Wabi Eco Chain, lo andiamo a vedere, andiamo a darci un'occhiata. Cos'è un fork di SushiSwap in versione Wabi Eco Chain, per l'appunto? Allora, TVL 32 milioni, APR elevatissimi, rischio Ragpull com'è qua? Non lo so, mi devo informare, perché non conosco bene come, come funziona la Wabi Eco Chain. Vediamo che pool ci sono, vediamo i pool con le stablecoin in particolare, HUSD, però HT, no? BTC, HUSD, 35%, che non è neanche malaccio, poi, 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 qua tutti con HT, 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 non c'è, eh, USDC, USDT, 16%, schifo non fa, sulle stablecoin, però pagati in Maki, c'è da fare farm and dump su Maki, in sostanza, non lo so, ti dico, ti dico, mi informo un po' meglio, sia sulla Wabi Eco Chain, che su questo Maki Swap, e, vediamo, vediamo, è un fork di pancake, mi sembra, più che di Sushi Swap, il token, 0,2 vale, vale poco al momento, non lo so, non so neanche dove vedere il grafico, se c'è, se su Dex Guru, te li fa vedere, oppure no, vediamo, forse da qua c'è un grafichino, vediamo se ce lo fa vedere, così, per curiosità, non lo so, eh, mi sembra che non stia funzionando proprio alla perfezione, una settimana, un mese implode, una settimana non implode, quindi vediamo, beh, non male, un downtrend costante, classico token da farm and dump, classico andamento da farm and dump, quindi, al momento, non è ancora cosa, comunque, torniamo a noi, torniamo a noi, allora, ciao Luca, esiste qualche formula matematica finanziaria per decidere le percentuali del portafoglio? esempio, bitcoin 70, etere un 20, eccetera, eccetera, è solo una questione di preferenza, ci sono considerazioni tecniche? allora, la risposta che ti do è che, eh, dipende dalla tua tolleranza al rischio principalmente, perché, se tu hai una tolleranza al rischio più bassa, tendenzialmente propenderai di più verso asset meno volatili, se cripto, quindi bitcoin ed ethereum, e il resto liquidità o asset più stabili, poi con la, parlo solo per le cripto, poi ovviamente c'è anche il comparto asset tradizionali, mentre più tu alzi l'asticella del rischio, e più puoi propendere anche per una componente altcoin, scelta con cura, ovviamente, e non c'è una formula magica, cioè, tu sappi che, andando a, allocare di più alle alt, e meno alla liquidità, quindi di più ad asset volatili, e meno alla liquidità, stai concretamente alzando l'asticella del rischio, un po' questo, poi, 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 eh, mh, mh, una domanda sulle stable, ragionando sul totale dei tuoi investimenti, le consideri come liquidità o come asset a rischio? Allora, in verità, nel comparto liquidità, ma consapevole che c'è un grado di rischio, perché comunque sono a rendita, nelle varie piattaforme, quindi lato volatilità, le considero ovviamente come asset liquidi, lato rischio, mi vanno a pesare un po', ovviamente, sul rischio di portafoglio. Su TradingView, la market cap totale ha avuto un bug, era frizzata per circa 60 minuti, alle, c'è sta, sì, beh, ogni tanto i dati su TradingView sono bugati, andiamo a vedere, tanto andiamo anche a vedere la market cap totale, che sono curioso, allora, è male, la market cap, guardate che roba, ieri, tra l'altro, avevamo fatto questa proiezione, per gioco, da dire, bene, qui c'era il supporto a 1.36, caspita, comunque, io ribadisco, il grafico della market cap, cioè, apre gli occhi molto spesso, è molto più chiaro di quello di Bitcoin, perché, guardate cosa succede, allora, innanzitutto, avevamo il nostro supporto, come vi dicevo, 1.36 trillions, l'abbiamo perso, poi, ieri, c'è stata questa candela un po' pazzoide, perché, c'è stato il retest, e, l'attacco, poi, alla parte in basso, al supporto sottostante, che, era più o meno a 1.1, e dintorni, era quella proiezione, che per gioco avevamo fatto, dicendo, beh, se lo perde, con conferma, c'è buona probabilità, di andare ad atterrare, da queste parti, e di fatto, così è stato, più o meno, poi, oggi invece, con questo rebound, con questo rimbalzino, che stiamo vedendo, stiamo riattaccando, dal basso, stavolta, il supporto perso, guardate, tingiamolo di rosso, per dargli ufficialmente, lo status di resistenza, e, proprio da questa resistenza, adesso, dipende, la sorte, del prossimo, della prossima struttura, perché, al momento, guardate sempre, il paragone con Bitcoin, Bitcoin è qui, ancora poco chiaro, con questa, questi lower low, e equal high, quindi, è una struttura, poco chiara, sulla market cap totale, invece, abbiamo, un range, perso, e adesso siamo all'interno, di quest'altro blocco, quest'altra struttura, se l'andiamo a recuperare, la struttura, tac, rientrando qui sopra, allora, ritorniamo in una situazione, di possibile, rialzo, di possibile, storno rialzista, storno verde, non bull market, attenzione, ma, storno verde, perché, di fatto, abbiamo, potenzialmente, addirittura, un setup long, cioè, ci sarebbero addirittura, i presupposti, per un setup long, nonostante, poi, il macro, sia, ancora, tendenzialmente, ribassista, però, il recupero, vedete, di una struttura, della struttura precedente, del blocco precedente, avrebbe, poi, come target, quest'altra area, 1,71, e quindi, rifacendo il gioco, della, ops, rifacendo il gioco, della predizione, che, ovviamente, è un gioco, da sfera di cristallo, si potrebbe avere, un più 20%, stavolta, sempre se, appunto, rimane all'interno, dei, dei livelli, che ha tracciato in passato, mentre, se il rifiuto, viene confermato, di nuovo, andremo a riattaccare, la zona 1,1, che è il supporto attuale, c'è possibilità, quindi, di andare a fare, a creare un range, all'interno, proprio di quest'area, poi, 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 dunque, stanotte, ho sognato, che Elon Musk, era tutto chinato, verso il pavimento, ad angolo, tutto preoccupato, e concentratissimo, a cercare di capire, quanto stesse scendendo, Bitcoin, su un grafico a muro, io gli ho, gli ho semplicemente, gridato, mettici il sale, un sogno assurdo, secondo me, devi stare, un pelo meno, davanti ai grafici, eh, cosa ne dici, potrebbe essere, un'idea, ma i codici, dove vanno inseriti, su PrimeXBT, nel tuo profilo, c'è la zona promo codes, tu lo incolli lì, fai, inserì, cioè, enter code, una roba del genere, e ti dà, ti accredita subito, il bonus, non sarà l'ultimo, quindi, se non hai un account, crealo, ci vuole due minuti, a dire tanto, e al prossimo giro, ce ne saranno ancora, poi, 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 dunque, andiamo a dare un'occhiatina, volante, al grafico, di Bitcoin, anche se, abbiamo di nuovo detto, già quasi tutto, mischiando queste analisi, no, miste, ormai grafici fondamentali, e quant'altro, tutto insieme, allora, cosa dicevamo? Dicevamo che, abbiamo due aree, da tenere sotto controllo, il range high, quindi, 40.000 dintorni, e il range low, che è tra 32.000 e 35.000, è questa gigantesca zona verde, abbiamo fatto questo bottom ieri, bottom locale, non voglio dire che adesso ripartiamo, anche se ci spero, ma bottom locale, perché abbiamo fatto uno sweep della liquidità, presa sotto i 31.000, abbiamo intrappolato un po' di short, perché chi ha shortato, chi è stato stoppato, eccetera, qua è stato intrappolato, e poi di fatto c'è stato assorbimento da parte della domanda, che ha riportato la candela a chiudere in verde, e oggi c'è stato follow up, il problema è che adesso si gioca un po' la battaglia, tra la candela di oggi, e il supporto dato dal precedente low, scusate la resistenza, è la resistenza più significativa sul breve, quella a 33.500 ed intorni ovviamente, quindi se noi in sostanza ce l'andiamo a prendere, la riprendiamo, e idealmente andiamo a riprenderci anche la candela del dump, 35.500, si apre volendo anche un'operatività verso il range high, anche long, per chi punta a fare operazioni di breve, chiaramente, perché poi il macro non è cambiato, siamo sempre con tendenza bearish, con struttura tendente al bearish, perché abbiamo il nostro top, la direzionalità ribassista, e quindi per recuperare una direzionalità più rialzista, dobbiamo andare a fare una sorta di, questa cosa qua, specchiata, quindi ta 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 ta, e poi ritorniamo su, questo, quindi la ripresa di questi livelli, 50.000 ed intorni, come abbiamo detto già tante volte, sarebbe il recupero del bias bullish, per quanto mi riguarda, mentre, se andiamo a chiudere in maniera bearish qua sotto, cioè non riusciamo nemmeno a recuperare i 33.500, è un brutto segno, perché significa che l'ultimo dump, quello che è stato originato dai 35.6, fino a far perdere l'ultimo low, a chiudere qua sotto, è confermato, è più confermato, e questo potrebbe essere un bearish retest, e quindi sì una bull trap, perché è andata a pompare un po' per intrappolare un po' di long qui dentro, e adesso con un'altra mossa ribassista, vengono squizzati loro, anziché gli short, quindi bull trap o bear trap, starà ai posteri l'ardo a sentenza, noi stiamo a vedere, anche perché sapete molto bene, che operare in situazioni di estrema compressione, scarsa volatilità, scarsi volumi, e quindi tanti falsi movimenti, è un rischio bello e buono, io giochicchio un po' con l'intraday, vi condividerò i risultati, ma appunto anche qua vedete che è molto difficile, ad esempio qui adesso non c'è ancora stata la reazione auspicata, e quindi se adesso non si muove a prendere un po' di direzionalità, io chiudo anche questa posizione, cioè è inutile, perché se lo scenario era quello di sweep, più assorbimento quasi immediato, se l'assorbimento poi non c'è, allora il setup cade, decade o meglio, quindi bisogna fare attenzione anche a questi dettagli, questo per quanto riguarda Bitcoin, poi le altcoin, ve l'ho detto, la tendenza è sempre quella, su BNB c'è la possibilità, guardate si è formato un costrutto interessante, perché sul nostro pool di domanda, 4 ore, che in realtà poi si era propagato anche sul giornaliero, abbiamo rimbalzato, e addirittura c'è un engulfing bullish, e questo è anche un higher low, quindi BNB è una di quelle poche altcoin, che non è messa malaccio, però attenzione, perché anche qua è una situazione ancora laterale, ancora da capire, non lo so, potrebbe poi tranquillamente, se ci dumpa Bitcoin, fare una mossa del genere, quindi anche questa, quella di oggi sulle altcoin, in generale potrebbe essere davvero una bull trap, bisogna fare attenzione, Ethereum, Ethereum invece male, perché ha perso anche questo supporto, e adesso la forza di gravità continua il suo corso, quindi non è ancora il momento, di andare a giocare con Ethereum, per il resto, non ci sono altcoin, che si stanno comportando, in maniera particolarmente virtuosa, Cardano, breakdown, possibile bearish retest, vediamo, insomma, sono tutte un po' così, bisogna fare tanta tanta attenzione sulle alt, in questo periodo storico, vediamo Matic, per curiosità, Matic, Maluccio, perché sta facendo un triangolozzo di questo tipo, ahiaiai, bene amici, io direi che questo è quanto, direi che ci siamo, abbiamo fatto un bel po' di analisi, abbiamo visto un bel po' di cose, e basta, direi che per gli aggiornamenti, noi ci rivediamo, come al solito venerdì, i nostri appuntamenti settimanali, sono sempre quelli, e basta, e poi, vediamo come si risolverà, questa situazione laterale su Bitcoin, seguiamo il grafico, della capitalizzazione totale, che è quello che sembra essere, più rivelatore tra tutti, tiene in considerazione, un po' tutto quanto, sono curioso, perché se dovesse, tac tac, fare un giochino del genere, sarebbe, non sarebbe male, non sarebbe affatto male, e comunque, per ogni cosa, noi ci aggiorniamo, anche su Telegram, e sugli altri canali, mi raccomando, seguitemi sempre anche lì, e grazie di cuore, come sempre, a chi si è abbonato, chi a Amazon Prime, lo fa gratuitamente, lo ringrazio lo stesso, che ha una piccola donazione, per voi a costo zero, vi faccio un carissimo saluto, alla prossima, ciao!